E' un'emozione indescrivibile, c'è tanta passione, tanto entusiasmo qui stasera, non so i dati precisi quali sono, però i miei mi dicono che abbiamo vinto e abbiamo vinto. Senta, adesso possiamo metterci alle spalle una campagna elettorale che è stata un po' combattuta, dice bene il termine, e adesso da dove si riparte? Si riparte da dove siamo rimasti, il nostro progetto che abbiamo spiegato bene agli elettori è un progetto che nasce, che ha lo zocco forte nella buona amministrazione di questi dieci anni, noi intendiamo continuare su questa strada e realizzare ciò che abbiamo previsto nel nostro programma elettorale e penso che abbiamo la forza, le risorse soprattutto e tanta, tanta, tanta professionalità accanto a me che mi potrà dare una mano a fare bene. A chi vuole dedicare questa vittoria? Ad alcune persone che non ci sono più, ai miei nonni e a mia suocera, a loro.